Tornerà per il secondo anno consecutivo dal 17 al 19 settembre a Lecce presso il chiostro di San Domenico Ring, la grande arena del marketing e della comunicazione, dei contenuti della tre giorni di convegni e seminari ma soprattutto delle novità di questa seconda edizione abbiamo parlato con Stefano Petrucci, presidente del consorzio Oltre Linea Una tre giorni che è un vero e proprio contenitore di più di 50 convegni, ma quali sono le novità di quest'anno? Qualche anticipazione? Ring si caratterizza anche quest'anno per essere un grande contenitore con tantissimi personaggi illustri, tante tematiche, veramente tanti incontri, convegni, eventi negli eventi, performance, installazioni effettivamente è un grande evento, però ecco la caratterizzazione che quest'anno possiamo dire è molto forte a parte le tematiche e quella dell'interazione cioè noi vogliamo che i convegni e la partecipazione del pubblico sia una partecipazione attiva e quindi vorremmo che attraverso gli strumenti di tecnologia che abbiamo messo a disposizione, attraverso le reti wifi e le connettività e i pc addirittura si potrà attraverso gli sms intervenire durante il convegno per fare una domanda e per caricare su un blog che è nextmediterranean.org contestualmente tutto ciò che avverrà, in video, foto, immagini, quindi sarà una partecipazione collettiva cioè noi realizziamo in ring quello che già diciamo dovrebbe essere realizzato dopo ring, dentro l'evento chi viene avrà la possibilità di dire la sua un altro aspetto fondamentale che si rinnova perché l'anno scorso già è stato fatto è quello di proporre dieci workshop di tematiche molto innovative verranno i guru delle reti, del digitale, Robin Good, Fabio Masetti, verranno persone e personaggi a spiegarci come si può fare business online e saranno tecnici, non saranno oratori, quindi daremo strumenti operativi per imparare a stare sul web, a comunicare sul web in maniera proficua per fare business e per avere notorietà e visibilità, quindi i workshop che sono all'interno del panorama del programma di Ring sono visibili sul sito www.ringgranderema.org